La rivista Quattro Ruote e l'OIED, la scuola di design di Milano, danno vita invece a una concept car destinata a diventare fonte di ispirazione. È una macchina sicuramente sportiva, una supercar, quindi qualcosa di tipicamente italiano, però interpretato da studenti stranieri, perché l'OIED è famoso per accogliere tantissimi studenti da tutte le parti del mondo, quindi è molto interessante il fatto che abbiamo realizzato una macchina oltre modo italiana, però realizzata da studenti stranieri. Un'altra cosa molto interessante che abbiamo voluto fare è far scegliere il nome al pubblico del web. Abbiamo fatto un web contest, abbiamo fatto anche qui una shortlist di cinque nomi che iniziavano con la S e terminavano con la A, appunto per ricollegarci alla Secura, alla Sigma e alla Summa della storia di Quattro Ruote. Migliaia di voti dopo abbiamo avuto il risultato. La macchina si chiama Sirma, è una delle stelle più visibili, più luminose nella costellazione della Vergine, può essere vista praticamente da quasi tutte le parti del mondo, anche questo ci piaceva dare un significato, una connotazione un po' spaziale alla nostra macchina.